Allora, mi diceva sua figlia, signora, dato che lei in caserme non può muoversi, ha detto se lei la poteva aiutare a pagare i tre verbali, che dopo l'assicurazione ci rimborsava tutto indietro. Questi due sono i tre verbali, in totale sono 3.700 euro. Mi ascolti, signora, perché il marisciano mi sta dando premura e non abbiamo molto tempo. Buongiorno, signora, sono Luca, non mi aspetto, ok? La ringrazio, signora, ci vediamo tra una ventina di lunedì. Luca, esci? Sì. Buongiorno, signora, è navigata alla d'agenda, sto sentendo che sta parlando con la d'agenda.